Organizzeremo ben tre eventi, tre eventi che comunque sia richiameranno un pubblico di varie età, di diversità. Partiremo l'11 agosto con Uccio De Santis, il famoso comico barese, per poi andare il 14 agosto con lo spettacolo per bambini, con la famosa youtuber Lucilla, per poi terminare il 17 agosto con il musical The Greatest Musical Show, un musical che racchiude ben quattro musical all'interno, Peter Pan, Pinocchio, Notre Dame e The Greatest Showman. Uccio De Santis sarà il protagonista della serata in programma l'11 agosto all'Arena BCC di Fano. Sì esatto, il famoso comico barese approderà qua a Fano e col suo nuovo spettacolo vi racconto il mio modù, che sarà un divertentissimo show dove verranno coinvolte anche le persone del pubblico, portate sul palco, e comunque sia verranno coinvolti nei loro sketch, nei suoi sketch con barzellette e comunque sia giochi. È uno spettacolo per bambini, quello di Lucilla, ma in realtà anche per bambini cresciutelli, perché lei è talmente conosciuta che crediamo che possa divertire tutti. Ma sì, lei con la sua famosa astronave arriverà qua a Fano all'Arena BCC per il suo bellissimo spettacolo dedicato prevalentemente, come dicevi tu, ai più piccoli, dove cerca di farli ballare, di farli divertire con le sue canzoni. È uno spettacolo bellissimo, dove ha riscosso successo in ogni dove e sicuramente lo farà anche qua a Fano.